La festa in piscina sta iniziando Eccola l'aria Dai ragazzi la piscina ci aspetta Giulie hai portato la palla No l'ho dimenticata Vabbè ma ci sono un sacco di cose da fare in piscina Sì esatto possiamo fare i tuffi Andare sulla paverella E poi schizzarci con l'aeroplano di Dani Ma voi lo sapete fuori il tuffo bomba Ma c'è Ehi shh Non avete visto anche voi C'è un poliziotto Il guardiano della piscina Ma passate via passate via passate No 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 ragazzi E' stata una brutta idea andiamo Non possiamo rischiare che ci veda la guardia Ehi ragazzi niente paura Ho la soluzione andiamo Ma dove sta andando Non lo so rimanete qui voi Si farà scoprire così Salve Salve Arrivederci Arrivederci Ragazzi 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 Non ho trovato la soluzione Vabbè sentite Ho un piano Aspettatemi qua Speriamo non finisca come con Dani però Esatto Ma non è colpa mia Metterò la radiolina qua Così distrarrò il poliziotto E noi entraremo in piscina Eccomi Eccomi Ci sono Ho posizionato una radiolina E ora distrarrò il poliziotto Così noi possiamo andare in piscina Ottimo piano Ehi poliziotto Sono qua Mi vedi? Cosa è stato? Mi è perso di sentire un rumore Vicino la mia piscina E ora che dico Si ha un panino Dobbiamo pur mangiare no? Hai un panino da darmi per caso? La piscina è chiusa Chiunque osi oltrepassare la linea verrà catturato Puoi venire verso il cespuglio? Ho studiato kung fu Di ultimo livello Secondo me non funzionerà nemmeno quest'idea Sì E ci scoprirà il poliziotto e ci arresterà Lo sapevo Questa serata era da nullare E io che volevo divertirmi in piscina Ma no ragazzi Non dovete pensare a questo Pensate positivo dai Ok andiamo Andiamo Eccoli 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 Il poliziotto Adesso cosa faccio? Aiuto Tu Mi ha presi Dove siete finiti? Vi giuro che vi prendo Ok Ho un piano infallibile Devo riuscire a uscire da questa piscina senza farmi beccare dal poliziotto E a mimetizzarmi con gli oggetti che ci sono Vado Non so dove andare Andrò lì Oh sono caduta Ai 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 Che male la mia manina Ecco qui chi ho trovato Uno degli stupidi ragazzini Adesso tu vieni con me No 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 Nella dove ci nascondiamo? Non lo so Questa casa è gigante Tu vai di là E io E tu vai di là adesso però devo nascondermi falsacchiotti lascia tu mi piace e iscrivetevi al canale perché sto per andare nel nascondiglio più incredibile di sempre tu vedi il poliziotto? no ninna via libera andiamo dai andiamo qua sotto ninna ma sei sicura che ci entriamo qui sotto? non lo so ma almeno il poliziotto non ci scoprirà così e alla fine è anche comodo più o meno dove siete? cosa? una notifica dalle telecamere di sicurezza stupidi ragazzini non sanno che avevo piazzato delle telecamere di sicurezza per questi casi arrivo adesso voi due ragazzine verrete con me così imparate che con la guardia della piscina non si scherza mamma noi non abbiamo fatto niente secondo me non ci meritiamo la prigione non si può andare in prigione per essere entrata in una piscina esatto e poi guardate come stiamo strette qui dentro speriamo che nessun altro si faccia arrestare matti ehi matti ma chi è? matti sono io il prato parla? non è il prato che parla sono io danny che parlo danny che bel nascondiglio che ti piace? quasi meglio del mio vabbè che c'è? ma come che c'è? dobbiamo liberare ninna danny e julie per salvarle dobbiamo riuscire a prendere la chiave della prigione ce l'ha il poliziotto sui pantaloni interessante credo di avere un'idea vai danny amici sta arrivando il poliziotto tanto vi trovo ahia sono inciampato sul nulla non c'è niente assurdo il mio nascondiglio è talmente sicuro che quasi quasi per non annoiarmi attacco qualche figurina vediamo eh che mi esce oh oh mi è uscito proprio matti chissà dove sarà spero solo che il poliziotto non l'abbia preso attacchiamola proprio qui vicino a ninna speriamo siano salvi tutti e due siamo arrivati a salvarvi ragazzi aprite aprite ciao ragazzi matti apri si ti do ti do una mano aspetta non ce l'ho oh c'ho io la chiave aprite apri apri sprecatevi prima che torni la guardia corri corri dai forza un attimo ma come un attimo apri non ce lo facciamo più corri corri si dai coraggio coraggio giù lì aiuto aspettate aiuto che bello matti andiamo si chiudo io fatto questo è il piano definitivo per distrarre il poliziotto ed entrare una volta per tutta in piscina si ok adesso lasciamo il manigino qui e aspettiamo che se ne accorga andiamo andiamo ciao ma lì c'è una persona anzi uno stupido ragazzino a quanto pare mi vogliono proprio far sudare questa sera ma cosa hanno usato il vecchio trucco della bambola gonfiabile vestita da stupida ragazzina dannati ragazzini vai piano matti ci sei ma ce la facciamo certo fate piano siamo ufficialmente in piscina si è così divertente anche io ma non li amo ci sentirà ma no tanto è distratto dal manichino bravo bravo il tuo piano è stato davvero geniale bravo bravo ma lo sapevo un momento ma se loro non sono qui significa che la piscina dai voi oh